Pacchino sorprese dentro un'abitazione i carabinieri denunciano a tre persone per tentato furto. I carabinieri della stazione di Pacchino hanno denunciato a tre uomini di 36, 32 e 26 anni, tutto del luogo, per tentato furto in abitazione. I militari hanno sorpreso i tre soggetti all'interno di un'abitazione attualmente disabitata e già in passato, vandalizzata da parte di ignoti, mentre tentavano di asportare accessori, utensili e materiale vario. Tutte e tre sono state denunciate dall'autorità giudiziera Eretusea, alla quale dovranno rispondere di tentato furto in abitazione e il 26 anni anche di porto abusivo di armi e oggetti a te offendere, poiché trovate in possesso di un coltello a serramanico.